Vorrei ricordare l'amico fraterno Giorgio Foa. Condivisi con lui il Banco del Liceo Classico Romagnosi, sezione B, negli anni scolastici 1936-37 e 1937-38. Frequentavo la sua casa di via dell'università, giacché una forte amicizia era venuta crescendo fra noi per la comune frequentazione scolastica. Un giovane buono, un amico sincero. All'inizio del terzo anno Giorgio non venne a scuola. Le leggi razziali lo volevano escluso da quel liceo che fino ad allora aveva frequentato con buon profitto. Ci fu un sussulto nei nostri cuori? L'ignobile provvedimento ci apparve in tutta la sua gravità e in tutte le sue tremendi implicazioni? Io credo di dover ammettere, per amore di verità, che indifferenza e apatia contraddistinsero il nostro comportamento di allora. Né dalla bocca dei docenti un pur minimo accenno all'infame reiezione ebbe a sortire, segno evidente dello sfascio ideale e morale che la dittatura aveva provocato in tante coscienze.